Il commento è che c'è un clima molto positivo e questo è un fatto importante, bisogna partire col piede giusto, in piena armonia, è stata espressa una stima reciproca da tutti i componenti del Consiglio e penso che ci siano tutti i presupposti per continuare a fare il buon lavoro che è stato fatto fino ad oggi e anzi cercare di migliorarlo anche.